Buongiorno a tutti, volevo fare questo breve video, vi chiedo scusa sulla qualità, io non sono un professionista, perché qualche giorno fa ho visto in rete, su alcune testate giornalistiche, un articolo che mi ha particolarmente incuriosito. Allarme cardiologi, ora rischiamo più morti per infarto che di covid. Questo è un articolo preso da DN Kronos, che comunque è stato ripreso da diverse testate giornalistiche, pubblicato il 9 maggio, magari qualcuno di voi l'ha già visto, ed è un articolo interessante perché spiega che la forza dello tsunami covid-19 potrebbe lasciarsi alle spalle una situazione che riporta l'Italia indietro di 20 anni. Già per paura del contagio e i ricoveri mancati, la mortalità per infarto è triplicata nella fase clou dell'emergenza coronavirus, secondo uno studio multicentrico nazionale. Se la rete cardiologica non sarà ripristinata, ora che è passata questa prima fase, avremo più morti per infarto che per covid-19. Ecco, adesso non vi sto a leggere l'articolo completo, poi vi metto il link sotto, ve lo potete andare a leggere. Però è una cosa che fa pensare, in effetti, e abbiamo sentito anche nelle televisioni ogni tanto, non proprio in maniera specifica, parlare anche di queste cose qua. Cioè, le morti per altre malattie sono passate in secondo piano, pare che in questi ultimi tre mesi nessuno sia morto per infarto, per ictus, o per incidenti stradali, o tante altre cose, per cancro, e vi dicendo. Quindi è evidente che ci sono delle problematiche. Però la riflessione che io volevo fare è questa, perché uno dice, vabbè, le morti sono triplicate, lo dice un giornale, poi in realtà noi non è che abbiamo la possibilità di andare a verificare, come non possiamo verificare i numeri che ci danno di tutti questi morti per covid, con covid, senza covid, non si capisce più niente. Una cosa è certa, e questo è per rispondere anche a alcune persone che su Facebook, quando tu osi dire una cosa leggermente diversa, ti dicono, ma tutti questi morti allora, tutte queste immagini che noi abbiamo visto, con tutti questi medici, con gli ospedali pieni, le terapie intensive piene, sono una falsità, no, non sono evidentemente una falsità, anche se in realtà poi noi in televisione vediamo quello che ci vogliono far vedere, ovviamente. E non dico che non sia vero, assolutamente, io tra l'altro ho un trascorso in ospedale di oltre 20 anni, quindi so come funziona il Servizio Sanitario Nazionale. E quindi comunque va al sostegno di tutti noi, agli operatori sanitari, medici, infermieri, operatori vari che lavorano in situazioni di emergenza. Però il problema è che, come siamo arrivati a questo punto? Cioè, prima che scoppiasse tutto questo gran casino, noi avevamo dei filtri, no? dei filtri intesi, dei filtri prima di arrivare a un ricovero, e dopo un ricovero, no, c'è poi ancora la terapia intensiva, dopo la terapia intensiva c'è più niente, ovviamente, no? Quindi questi filtri sono stati eliminati subito, e questo, se vi ricordate all'inizio, no, uscivano questi banner in televisione dove dicevano Se ti senti male, non andare in pronto soccorso, non andare dal tuo medico curante, chiamalo, chiama questi numeri e vi dicendo Ecco, il primo filtro qual è? Il medico di base, cioè, se tu hai l'influenza, prima di tre mesi fa, uno che aveva l'influenza, un po' di febbre, cosa fa? Mica vai in ospedale, chiama il medico, il medico cosa fa? Allora, magari non viene neanche a vederti, però ti dice, ti dà, che ne so, io la tachipirina, ti dà qualcosa, no? Ti dice, benissimo, se non passa, poi ovviamente tu richiamavi il medico, il medico a quel punto lì poteva anche dirti, beh, allora, guarda, fai una cosa, vai in pronto soccorso, no? Secondo step, il secondo filtro, cioè il medico di pronto soccorso Il medico di pronto soccorso è la stessa cosa, ti visita, magari ti fa due esami, ti fa una terapia, vi dice, non è detto che ti ricoveri Perché magari dopo due esami capisce che tu, no, puoi tranquillamente fare la tua convalescenza a casa, ti dà dei farmaci, te ne stai a casa, il tempo necessario ti passa Nel caso in cui invece la tua, diciamo, il tuo malore richiede un ricovero, allora a quel punto lì sa il medico di pronto soccorso che decideva il ricovero, vi dicendo Ecco, questi sono i filtri naturali, cioè si chiama medicina del territorio, è sempre esistita, è stata depotenziata sicuramente Perché l'Italia della Sanità hanno, negli ultimi 10, 15, 20 anni, hanno massacrato la sanità da tutte le parti, sia negli ospedali che sul territorio Però la medicina del territorio è stata completamente devastata, no? Ogni tanto qualcuno lo dice in televisione, però questo è il fattore scatenante del casino che è successo negli ospedali Perché a un certo punto tutti quanti finivano in pronto soccorso, quindi pronto soccorso, contaminazione, vi dicendo Quindi c'è stata un'esplosione, no? Chiaramente di contagi, perché poi il posto meno sicuro dove si rischia di prendere qualcosa sono proprio gli ospedali Questo è storicamente così, ma non per colpa degli ospedali, perché così c'è tanti virus che girano E' naturale che se tu vai in ospedale sei più a rischio, chiaramente Quindi la domanda è perché hanno tolto la medicina del territorio? Perché hanno paura che i medici di base si infettassero? O perché hanno paura che... semplicemente si dovevano fare dei protocolli in modo tale che la gente potesse andare in un ambulatorio O i medici dai pazienti a domicilio, esattamente come si fa in tempi normali, chiaramente Quindi togliendo questi filtri, ovviamente le cose sono peggiorate E' ovvio che poi l'articolo, se ve lo andate a leggere lo vedete, è ovvio che ci sono anche più morti Perché la gente ha paura, no? Di andare in ospedale, quindi se uno ha male, sospetta di avere magari Un po' di mal di stomaco piuttosto che al braccio, vi dicendo che non va subito Nel caso di un infarto ovviamente, i minuti contano, cioè devi andare velocemente, no? Io conosco un amico che ha dovuto chiamare un'ambulanza per una persona una quindicina di giorni fa Ecco, normalmente l'ambulanza ci mette un quarto d'ora più o meno Quando ha chiamato l'ambulanza ci ha messo il doppio, mezz'ora Mezz'ora e poi dieci minuti per la vestizione perché giustamente gli operatori sanitari devono rispettare dei protocolli Dieci minuti perché vestirsi, mettersi il camice, la mascherina, i guanti, lo scafandro e tutte quelle cose lì Quindi richiede del tempo, ecco, sono tutti i tempi dilatati che poi alla fine per malattie, per patologie così gravi Fanno poi la differenza ovviamente Non entro poi nella polemica del fatto che a qualsiasi modo deceduto hanno fatto un tampone Se risultava positivo, anche se era molto per infarto, la dichiarazione era molto per covid Quello bisognerebbe, ma verranno fuori poi comunque queste cose qua Sono cose a cui uno pensa, però poi ovviamente sicuramente qualcuno andrà poi a vedere quando sarà passato tutto Sperando che passi tutto più velocemente possibile Anche se abbiamo dei seri dubbi che la cosa si fermi velocemente Ecco, questa era la riflessione che volevo fare oggi Che mi è venuta in mente quando ho letto questo articolo Se volete potete mettere un mi piace, fare una condivisione Vi dicendo anche perché ho appena finito di vedere un video dove il titolare del sito BioBlu si lamentava Che stanno cominciando a cancellare i video da Youtube, a bannare, a fare censura in poche parole Quindi diciamo che tutte queste cose, questi documenti che magari sfuggono Possono essere condivisi, visti da più persone, più persone riescono ad avere un'informazione Ovviamente alternativa a quelle che sono le informazioni normali Che sentiamo nelle televisioni, secondo me, meglio Bene, vi ringrazio per aver visto questo video Se vi piace, condividete Ciao ciao